Tutti dalla Tg regionale per sordi. Apriamo con gli ultimi aggiornamenti per quanto riguarda i dati Covid in Toscana. Sono 1.276, l'età media 45 anni e purtroppo si registrano 4 decessi. Sono tutti uomini, l'età media 74,5 anni. Uno a Firenze, uno a Pistoia e due a Lucca. I ricoverati sono 343, 5 in meno rispetto a ieri, di cui 15 in terapia intensiva. Ma c'è anche una 26enne tra le vittime del Covid, registrate però nella giornata di ieri. In Toscana la giovane residente a Prato era affetta da patologie pregresse. E' ricoverata all'ospedale Fiorentino di Careggi, dove purtroppo è deceduta a causa del Covid. E in Toscana ad oggi sono 10.063 i morti a causa del coronavirus dall'inizio dell'epidemia. Ed è caos agli uffizi per il blocco da parte del Ministero della Cultura dei contratti siglati per lo sfruttamento digitale, cosiddetto NFT, delle opere del Museo. A riportarlo oggi il quotidiano La Repubblica, citando un'inchiesta delle Iene, della trasmissione televisiva delle Iene, in onda stasera su Italia 1. Secondo quanto riportato dal quotidiano, l'allarme suscitato per la possibilità di perdere la gestione, il controllo e lo sfruttamento delle immagini digitali di alcune delle opere più importanti del nostro paese, avrebbe portato già nei mesi scorsi il direttore generale dei musei Massimo Osanna a firmare una circolare bloccando d'urgenza i contratti con la società milanese Cinello che si occupa delle riproduzioni digitali degli NFT e oggi a decidere di non rinnovare quelli già siglati. Per riportare ordine ed evitare che si ripeta ciò che è successo è stata insediata anche una commissione. Ma tra gli altri musei coinvolti anche la pilota di Parma, la Galleria Nazionale delle Marche, Capodimonte e l'archeologico di Napoli. È stata archiviata la posizione dei sette indagati di omicidio colposo, tra cui cinque poliziotti, un medico e un'infermiera del 118, nella vicenda di Arafet Arfoui, il 31enne tunisino morto il 16 gennaio 2019 durante un controllo di polizia ad Empoli, dentro un negozio di money transfer. Nell'ordinanza di archiviazione del GIP Mancuso viene sottolineato che Arfoui non è morto per la posizione in cui gli agenti del commissariato lo trattennero durante il fermo, ma, come stabilito dalle perizie, il decesso è da attribuire a un arresto cardiaco provocato proprio dal combinarsi di fattori di rischio, come l'ingestione combinata di cocaina e alcol e stress psicosociale. Allo stadio con petardi e fumogeni e quanto conto è stato a quattro tifosi della Juventus di età tra 19 e 25 anni, tre provenienti dal milanese, uno dalla provincia di Matera, in occasione della gara contro la Fiorentina di sabato scorso, con conseguente DASPO, da uno a due anni emesso nei loro confronti dal questore di Firenze. Durante il cosiddetto prefiltraggio dell'aria che porta direttamente ai cancelli dello stadio, i quattro sono stati trovati in possesso di petardi e fumogeni. Per tutti è scattata subito la denuncia, alla quale è seguito il provvedimento elaborato in questi giorni dalla divisione Polizia Anticrimine. E continuano i disagi sulle linee ferroviarie Siena, Chiusi e Pisa-Luc-Aulla. Per entrambe nel mese di aprile è scattato il bonus destinato agli abbonati come risarcimento, ritardi e soppressione dei treni. Sulla linea Siena-Chiusi, la peggior linea del 2021 con sei mesi su 12 di bonus, il servizio è tornato ai bassi livelli dello scorso anno con ritardi pesanti, con posizioni decurtate anche sui treni di maggiore interesse pendolare e molte soppressioni. A spiegarlo la regione urge un deciso cambio di passo, la criticità è troppo alta, ha detto l'assessore ai trasporti Baccelli, RFI e Trenitalia devono fare uno sforzo perché la situazione è davvero intollerabile. e finisce sulle spalle dell'utenza che va salvaguardata. Ma anche sulla linea Luc-Aulla nel mese di aprile il servizio è stato molto insondisfacente, guasti infrastrutturali, problemi ai materiali che hanno causato troppo spesso soppressione di treni fondamentali per i lavoratori. Tre operai ed ili si sono arrampicati su una gru per protestare contro il datore di lavoro. Questo accade a Scandicci, in un cantiere all'incrocio tra via Pisana e via della Pieve, sul posto vigili del fuoco, polizia municipale e carabinieri. A cercare di convincere gli operai a scendere dal pericoloso luogo dove si erano sistemati anche il vice sindaco Andrea Giorgi. Ma non è la prima volta che accade un episodio del genere in via della Pieve. Tempo fa in un altro cantiere altri operai avevano fatto ricorso a questa singolare forma di protesta per tutelare i loro diritti. E ora parliamo di fumetti da Tex a Dylan Dogg, da Zagor a Dragonero. Il Museo degli Innocenti di Firenze propone una mostra che ripercorre gli 80 anni della casa editrice italiana che ha fatto la storia del fumetto, la Sergio Bonelli, editore. La mostra è in programma dal 1 giugno fino al 18 settembre ed è proprio dedicata ad alcuni dei più noti e longevi personaggi del fumetto italiano che ormai sono entrati nell'immaginario collettivo tra questi Tex Wheeler, Piccolo Ranger, Zagor, Dylan Dogg, Nathan Never e Dragonero. E ora vediamo insieme le previsioni del tempo. Per domani in Toscana parzialmente nuvoloso, qualche addensamento e possibili locali rovesci temporaleschi durante il pomeriggio i venti sono deboli, i mari poco mossi e infine le temperature stazionarie le minime e massime in aumento su valori decisamente sopra la media. Ed è tutto per questa sera, grazie per averci seguiti, arrivederci!